A distanza di qualche mese, nell'ultima interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, dove si chiedeva all'amministrazione un aggiornamento sul canile e sui tempi previsti per l'apertura della nuova struttura, siamo venuti a conoscenza da varie fonti che il terreno dove è posizionata la struttura del canile andrà a breve all'asta, con i seguenti riferimenti, dove praticamente viene riportato l'820 in piena proprietà terreno seminattivo in Fidenza, un prezzo base di 250.000 euro, l'offerta e la data di vendita sono tra il 10 e l'11 di aprile, con un rilancio minimo di 1.000 euro. Ora il punto principale ed increscioso è che lascia a Basiti come si sia potuto progettare e costruire su un terreno ad oggi mai acquisito dal Comune e dalla società Soprip, fallita nel 2014, in questi giorni, sempre attraverso fonti esterne, apprendiamo che si sta procedendo il trasferimento dei cani nella nuova struttura, il tutto senza spiegare alla cittadinanza dei punti importanti, ovvero si chiede che ne sarà dei cani e dei soldi pubblici spesi nella costruzione della nuova struttura, ad oggi sono circa 423.000 euro, di cui 356 arrivati dalla regione attraverso la provincia, 200 arrivati dal Comune che includono un lascito privato vincolato di 27.000 euro, più i 67 utilizzati per dei lavori descritti dall'ASL nel 2016. Con che soldi il Comune intende acquistare il lotto? E se l'ASL la vincesse una società esterna al Comune, chi pagherà lo smantellamento della struttura e che ne sarà dei cani? Viene da chiedersi se il Comune spera forse in una donazione, di chi? Si chiede all'assessore vicesindaco Giancarlo Castellani che solo un anno fa definiva al nuovo canine un'eccellenza per Fidenza e al sindaco Massari cos'è successo e quali erano gli accordi presi tra le varie amministrazioni. Poi non è presente ma si riferisce anche al dirigente dei servizi tecnici, l'architetto Giglioli, che ha seguito tutto l'iter di questa vicenda, ereditata dalle vecchie amministrazioni. Qual è il suo punto di vista? Nel senso quali sono gli accordi presi tra le vecchie amministrazioni e il ruolo in questa vicenda e come si è potuti giungere a questo punto? Speriamo di giungere a un punto di chiarezza in questa vicenda che delinea uno scenario piuttosto preoccupante sia dal punto di vista economico per le casse del Comune, sia sul futuro degli animali e di chi lavora per loro senza chiedere in cambio né guadagni né favori. Ci auguriamo di poter seguire tempestivamente gli aggiornamenti del canile in modo istituzionale e non solo attraverso social o giornali. Metodi spesso utilizzati da questa amministrazione anche per altri temi e non condivisi da tutta la minoranza politica. Quindi spero di avere delle risposte veramente esaudienti. La interrogazione urgente si risponde con una risposta altrettanto tempestiva. Confermo che il canile verrà inaugurato molto presto, siamo arrivati al fine dell'iter, è tutto in regola. D'altra parte molte delle questioni che il consigliere ha presentato con queste interrogazioni urgenti hanno già state presentate a suo tempo, soprattutto la parte economica che è stata abbondantemente illustrata in passato. Rispetto alle domande dirette che vengono rivolte al sottoscritto, quindi io confermo tutto quanto ho dichiarato nelle precedenti occasioni e vi compreso la risposta che era stata già consegnata a fronte delle interrogazioni precedenti o anche la risposta scritta dell'architetto Giglioli che non leggo perché è molto articolata e comunque ricostruisce passo dopo passo tutta la vicenda per concludere confermando l'assoluta certezza che questo intervento, qualunque siano gli esiti della gara a cui faceva riferimento la consigliera, non comporterà conseguenze negative per il Comune di Fidenza che ha il bene mai completato, i cani sono stati trasferiti, c'è una soddisfazione molto grande da parte degli animalisti in generale e anche di chi ha gestito il canile fino ad oggi prestando la propria attività in termini di volontariato, sono persone che vanno rispettate, non vanno spaventate e credo che ci siano sostanzialmente tutte le condizioni per poter essere fieri di questa operazione che consegna a Fidenza una struttura di eccellenza che nessuno nel territorio della bassa ovest, vecchia definizione di confini geografici, può vantare. Quindi questo è quanto io penso di dire, consegnerò il testo scritto così la consigliera avrà modo anche di verificare se quanto ho detto molto sinteticamente corrisponde al vero o meno. Così, però non mi ha risposto che ne sarà del terreno e dei cani, l'asta, come andrà? Perché là i cani ci stanno svolgendo sotto. Ho capito, lo compra il Comune, viene ceduto, viene spropriato, cosa viene fatto? Tre pagine mi riassume due parole, visto che è pubblico, il Consiglio Comunale penso che i cittadini che seguono questo caso interessa. Io faccio fatica a dare del lei, a volte mi viene spontaneo a dare del lei e non so il perché. Allora, si legge la risposta articolata, siccome non è la prima interrogazione che viene fatta su questo tema, avrà modo di presentarne altre e di volta in volta risponderemo in base a quello che al momento potremo dire. Quello che io potevo dire l'ho detto tutto, quello che non ho detto è scritto. Io sono veramente basita, penso tutta la cittadinanza, perché comunque dalle risposte del genere non vengono date. Vorrà dire che presenterò un'altra interrogazione, sempre sulla stessa cosa e carichiamo. L'altra volta mi è stato risposto dopo due mesi. Questa volta, per fortuna, è capitato per un'altra interrogazione. Per fortuna ho avuto una risposta che non è una risposta alla mia interrogazione. Come al solito si prende tempo, si spende soldi dei cittadini. Non è stata data una risposta, perché l'asta è d'aprile e io vorrei sapere che cosa succede. Tutto lì. Comunque, vabbè, non sono contenta. Bene, passiamo.